Innanzitutto partiamo dall'ultima notizia, quella dei giorni scorsi. La Valfino è ancora in zona rossa, l'unico comune ad uscire ed è lice, ma fa parte della provincia di Pescara. Voi siete ancora all'interno, questa volta però non c'è una data per vedere la luce. Ecco, sarà tutto in base alla relazione epidemiologica della ASC, perché la Regione Abruzzo ha detto fino a cessiata emergenza. Sì, non c'è una data, ci auguriamo che ci sia un report settimanale, quindi nel fine settimana visto che abbiamo un miglioramento netto delle condizioni della nostra popolazione, speriamo che la ASC ci dia uno spiraglio di luce verso una riapertura, una zona rossa naturalmente chiesta con forza e non ci dispiace di quello che abbiamo fatto. Però adesso oggettivamente, meno male, abbiamo un miglioramento della salute, quindi penso che piano piano si possa tornare verso la zona rossa nazionale. Ecco, questo è quello che avete chiesto voi dopo l'ultima ordinanza, cioè fare un report settimanale e non allungare di tanto i tempi. Sì, per avere un quadro dell'evoluzione del quadro epidemiologico, così da capire, anche da permettere al rigovernatore di muoversi in base ai dati settimanali. Ecco com'è la situazione ad oggi nel suo comune. Ad oggi io non registro nuove positività e niente, ci sono anche i primi guariti ufficialmente, quindi quelli che fanno i due tamponi di verifica sono tutti e due negativi, quindi iniziano ad essere circa cinque o sei guariti nel mio comune. C'è anche lei tra questi cinque o sei? Ho fatto il tampone sabato e risultato negativo, aspetto il secondo tampone, penso domani mi faranno il secondo tampone e poi aspetto il risultato. Se anche questo sarà negativo, anch'io potrò tornare al lavoro ufficialmente. Ecco, a guidare da vicino il suo comune perché sicuramente ce ne sarà bisogno, soprattutto poi per arginare una questione socio-economica che si fa veramente difficile. Sì, una questione socio-economica che sarà l'emergenza da affrontare dopo, tant'è che abbiamo scritto, come tutti i sindaci della Valfino, abbiamo scritto una lettera appello al Presidente Marsiglio affinché si attivino canali preferenziali per questa zona, affinché le varie attività produttive che hanno sofferto ancora di più questo periodo possano essere usate con contributi straordinari, siano essi regionali che governativi. Grazie. Grazie. Grazie.